buongiorno e bentrovati alla rubrica a domanda risponde oggi parleremo delle norme sui collegi docenti e sui consigli di istituto quali sono le norme per la convocazione da parte del dirigente scolastico di un collegio docenti ogni scuola sulla base dell'autonomia scolastica dovrebbe dotarsi di un preciso regolamento del collegio dei docenti in tale regolamento dovrebbero essere normate le disposizioni di convocazione del collegio per un collegio ordinario quindi già disposto nel piano annuale delle attività la circolare di convocazione emanata dal dirigente scolastico con un anticipo almeno di cinque giorni mentre per un collegio straordinario non inserito nel piano annuale delle attività nella circolare va specificata la straordinarietà e i motivi legati all'urgenza che ne determina la convocazione che può essere fatta anche nelle ventiquattro ore precedenti il collegio qual è l'organo collegiale che delibera i criteri per l'assignazione dei docenti alle classi è utile sapere che per l'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 297 del 94 il testo unico della scuola il consiglio di circolo o di istituto indica altresì i criteri generali relative alla formazione delle classi all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e che per l'articolo 7 comma 2 lettera b del decreto sempre legislativo 297 del 94 il collegio docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione la composizione delle classi l'assegnazione ad esse dei docenti tenuto conto chiaramente dei criteri generali e già indicati dal consiglio di istituto terza e ultima domanda qual è l'organo collegiale deputato ad approvare il piano triennale l'offerta formativa il così chiamato ptoff beh il piano triennale l'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti anche sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal dirigente scolastico tale piano e invece approvato con voto di delibera dal consiglio di istituto vi ringraziamo per l'ascolto vi auguriamo buone feste di natale ci rivedremo nel 2022 e continuate a seguirci anche durante le feste nel nostro sito www.tecnica della scuola perché terremo aggiornato di tutte le notizie tutti i nostri lettori arrivederci